A destato scalpore il crollo dei contenitori registrato nel porto di Civitavecchia nel primo trimestre 2023. Nessuna perde come la nostra città che partiva già da una posizione bassissima. La continuità territoriale tra continente e Sardegna effettuata attraverso il collegamento tra il porto di Civitavecchia e quelli di Arbatax e Cagliari sarà assicurata anche per i prossimi tre anni. Inaugurazione nella sede di Civitavecchia per lo sportello solidale della Croce Rossa, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17, si tratta di un luogo dove trovare ascolto, accoglienza e sostegno concreto. Grande partecipazione questa mattina al Parco Spigarelli per Special Day, evento di sport e inclusività per ragazzi disabili e normodotati organizzato da Special Olympics. Dopo il divorzio tra il Civitavecchia e Paolo Caputo inizia il toto allenatori per trovare il nome del successore, quattro i nomi in lizza, Boccolini, Manelli, Fracassa e Scudieri. Buonasera dal nostro telegiornale, sta facendo discutere negli ambienti portuali il notevole calo della movimentazione dei container registrato nei primi tre mesi dell'anno nel porto di Civitavecchia. Un crollo del 26% che non trova apparentemente giustificazioni considerando la vicinanza con Roma, ovvero col più grande mercato italiano e quanto emerso da un'indagine condotta dalla Banca Mondiale, in base alla quale Civitavecchia è uscita meglio di altri porti riguardo la performance e la collocazione geografica. Ha destato scalpore il crollo dei contenitori registrato nel porto di Civitavecchia nel primo trimestre 2023, con oltre un quarto dei teo imbarcati e sbarcati nello stesso periodo dello scorso anno sono andati in fumo. C'è da dire che tranne qualche eccezione il settore è in perdita anche nelle altre realtà portuali, perlomeno in quelle che hanno finora pubblicato i dati del primo trimestre. Nessuna però perde come Civitavecchia che oltretutto partiva già da una posizione bassissima nella classifica nazionale. Venezia registra una diminuzione dell'1,2%, Ravenna del 3% e l'accoppiata Napoli-Salerno del 6,2%. Civitavecchia supera il 26%. Peraltro nel calo pesa probabilmente anche l'uscita di scena della Reef Line, la compagnia delle piccoli navi porta container che ha deciso di non servirsi più del terminal gestito dall'RTC alla banchina 25 e che lo scorso anno aveva cominciato a scalare il porto locale assicurando collegamenti con le Americhe e con l'Asia. L'ennesimo dato negativo riguardante i contenitori dovrebbe indurre ad una seria riflessione sulle cause del mancato decollo di un settore che altrove garantisce importanti introiti e notevoli ricadute occupazionali e che assicura notevoli entrate anche a Stato e Regione attraverso lo sdoganamento. È paradossale, come più volte sottolineato, che avendo a due passi una metropoli come Roma, servita ogni anno da 2 milioni di Teu, il porto più vicino riesca a movimentarne solo un ventesimo. Praticamente oltre il 90% della merce destinata alla capitale viene sbarcata nei porti di Livorno, Napoli e Salerno, ben più lontane, ma che evidentemente hanno un costo inferiore. Un costo economico inferiore che però contrasta in modo palese con quello ambientale, visto che il trasporto effettuato su tratte di centinaia di chilometri maggiori rispetto a quella tra Civitavecchia e Roma è ovviamente più impattante sul piano dell'inquinamento. Peraltro, a rendere maggiormente paradossale la situazione, è arrivato nei giorni scorsi il report della Banca Mondiale sulle performance dei terminal container di tutto il mondo. I porti italiani ne escono tutti male, tranne Savonavado, perché collocati ben oltre il centesimo posto della graduatoria. Civitavecchia occupa il 185esimo posto, comunque molto meglio piazzata, di scali come Venezia, Napoli, Livorno, Genova, La Spezia e Trieste, che normalmente movimentano almeno il triplo dei contenitori, visti al terminal locale. Ma il dato diventa ancora più paradossale, visto nell'ottica del ranking elaborato su base geografica, che mostra meglio la posizione occupata da uno scalo in relazione ai suoi vicini e che vede Civitavecchia al sesto posto su scala nazionale. E la domanda torna spontanea. Perché un porto anche a livello internazionale mostra particolari potenzialità sul mercato dei container? Continua ad essere mortificato da numeri assolutamente risibili? Non siamo ovviamente noi a dover dare le risposte. Negli ultimi 15 anni, senza ottenere naturalmente risposte, abbiamo più volte posto il problema di una concessione che non garantisce i livelli di traffico attesi. Chissà che stavolta, di fronte ad una tale debacle, non si possa avvertire qualche vagito. La tratta marittima tra Civitavecchia, Arbatax e Cagliari non sarà soppressa. La Grimaldi si è infatti aggiudicata il bando per il collegamento triennale che era stato emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Grimaldi, peraltro, è stata l'unica compagnia armatoriale a presentare un'offerta. Sulla base di quanto previsto dal bando, il collegamento continuerà ad essere trisettimanale. La continuità territoriale tra Continente e Sardegna, effettuata attraverso il collegamento tra il porto di Civitavecchia e quelli di Arbatax e Cagliari, sarà assicurata anche per i prossimi tre anni. A fornire l'anticipazione è il magazine Shipping Italy, che rivela che sarà la Grimaldi a rassicurare il collegamento, essendo stata, peraltro, l'unica società a presentare un'offerta rispetto al bando che era stato emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che scadeva lo scorso 5 maggio. Nell'articolo di Shipping Italy si legge che l'importo offerto dal gruppo armatoriale napoletano è stato di poco inferiore ai 27 milioni di euro a fronte di un bando di gara per aggiudicare la sovvenzione per il supporto al servizio che stimava un costo complessivo per l'esercizio della linea quantificato dagli uffici ministeriali in 72 milioni di euro e a parziale copertura di questi oneri dalla base d'asta aveva posto come sovvenzione pubblica un ammontare di circa 42,4 milioni di euro per una durata dell'appalto di 36 mesi oltre alla possibile proroga di 6 mesi del valore di circa 7 milioni di euro. La precedente convenzione pubblica era scaduta il 22 marzo scorso e il servizio continuò comunque ad essere assicurato in regime di proroga sempre da la Grimaldi. Nei prossimi tre anni il collegamento continuerà ad essere trisettimanale e sull'impronta di quanto avvenuto finora, visto che lo prevedeva lo stesso capitolato del bando con almeno due approdi intermedi ad Arbatax distanziati di almeno due giorni un viaggio in notturna con partenza non prima delle 19. Il bando prevedeva poi una durata fissa delle traversate di 13 ore tra Civitavecchia e Cagliari, di 9 ore tra Civitavecchia ed Arbatax e di 5 ore tra Arbatax e Cagliari. Prevedeva infine che la linea dovrà essere assicurata attraverso l'utilizzo di un traghetto ROPAX varato da non più di 30 anni e con una capacità di trasporto passeggeri non inferiore a 900 persone, di cui 500 in posti fissi oltre ad avere 1200 metri lineali di corsia per auto e trailer. Un incontro importante quello di oggi con il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco per proseguire nel rilancio della città secondo hub croceristico del Mediterraneo. Lo afferma il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca che ieri ha incontrato il primo cittadino e diversi esponenti dell'amministrazione comunale. Questa parte del Lazio, scritto Rocca, merita finalmente di sviluppare al meglio le sue potenzialità e necessità innanzitutto di un rafforzamento della rete infrastrutturale e di un'attenzione particolare nella governance del territorio, ad esempio per quel che concerne gli usi civici. Tutto ciò consentirà anche una virtuosa crescita del turismo dopo il difficile periodo della crisi pandemica. La regione c'è e farà la sua parte. Nel Consiglio Comunale l'amministrazione ha dovuto rispondere alla nostra interrogazione che chiedeva chiarimenti sulla complessa vicenda legata al centro dell'impiego e all'incapacità di questa amministrazione di mettere a disposizione della regione Lazio un locale idoneo per l'apertura dello stesso. Ad affermarlo è il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle che esprime le sue preoccupazioni a riguardo. Questa amministrazione è riuscita a trasformare un semplice procedimento pubblico teso all'individuazione di un locale iniziato nel 2020, dichiarano i pentastellati, in un ginepraio che sta ritardando la riapertura ormai da tre anni. Errori su errori che hanno portato all'annullamento di manifestazione di interesse e conseguente bando di affidamenti e contratti già sottoscritti fino ad arrivare all'annullamento di tutti i procedimenti per ricominciare da capo. Speriamo solo che la regione non esaurisca il bagaglio di pazienza e decida di collocare il centro per l'impiego in un altro comune. Inaugurato ieri mattina presso la sede della Croce Rossa italiana il nuovo sportello sociale realizzato con il sostegno di Enel Cuore. L'incontro ha visto la presenza di rappresentanti e volontari della Croce Rossa, dei rappresentanti di Enel Cuore, Onlus del gruppo Enel e dell'assessore ai servizi sociali del comune di Civitavecchia Deborah Zacchei. Collocati in 11 regioni del nostro paese, gli sportelli sociali della Croce Rossa italiana rappresentano un punto di primo contatto con le fasce più vulnerabili della popolazione ma soprattutto un luogo sicuro dove trovare ascolto, accoglienza e sostegno concreto. Dall'orientamento ai servizi locali, all'aiuto economico attraverso la distribuzione di beni di prima necessità al supporto psicologico per tutte le persone che vivono momenti di difficoltà. Un'intervista. La tua storia ci sta a cuore, è lo slogan a scelto della Croce Rossa per lo sportello sociale inaugurato oggi qua a Civitavecchia. Di che si tratta? Allora, si tratta di un progetto che ha visto insieme Croce Rossa italiana da un lato e la Fondazione Nel Cuore dall'altro che ha finanziato l'apertura di 100 sportelli sociali in tutta Italia, in 11 regioni italiane. Il progetto vede anche inoltre all'apertura degli sportelli sociali e anche il finanziamento del rafforzamento delle unità di strada della Croce Rossa italiana, quindi quelle unità di strada che preparano pasti e portano pasti ai senza fissa dimora. In questo comitato nello specifico di Civitavecchia, nel comitato territoriale della Croce Rossa italiana di Civitavecchia, è attivo tutti i giorni, dalle 9 alle 17, accoglie quelle che noi oggi chiamiamo le nuove povertà. Tante persone si sono ritrovate senza lavoro. L'obiettivo di questo progetto è accogliere le persone, capire quali sono le loro necessità e i loro bisogni e cercare di aiutarle, uscire da quelli che sono appunto i fattori che le hanno messi in queste condizioni di povertà. Che significa l'apertura dello sportello sociale a Civitavecchia? È un territorio che ne ha bisogno? È un territorio che, come tanti, ne ha bisogno. Significa essere vicini alle persone. Croce Rossa italiana ha più di 650 reti per comitati territoriali in tutta Italia. La forte capillarità di Croce Rossa è proprio la sua potenza, perché è importante essere dove ci sono le necessità, dove ci sono i bisogni con i nostri volontari e quindi essere qui, come in tante altre sedie in Italia, vuol dire essere vicini alle persone che hanno bisogno e che sono appunto in condizioni di vulnerabilità e che sanno che possono rivolgersi a una sede di Croce Rossa italiana. Per noi è motivo di orgoglio essere qui oggi a presentare lo sportello sociale di Croce Rossa. Come dicevi, ne sono stati aperti i centri in tutta Italia e noi qui a Cirecchia l'abbiamo voluto fortemente per la necessità che riscontriamo sul territorio. E quindi, come dicevo, siamo orgogliosi di aver oggi ospitato anche chi, come Fondazione è nel cuore, ha finanziato questi cento sportelli. C'era già una necessità precedente al Covid, a seguito del quale i numeri sono cresciuti. Noi assistiamo periodicamente circa 1.500 persone e pertanto c'è necessità di questo presidio di umanità che possa dare risposte concrete. Stiamo collaborando con il Comune sugli interventi di punto di intervento sociale, in coprogettazione con il Comune. Siamo affidatari quindi di questo servizio che ci consente di avere persone qualificate che possa dare delle risposte concrete rispetto alle necessità che ci vengono presentate. Tornando allo sportello sociale, come funziona? Lo sportello sociale è aperto tutti i giorni, liberamente si può accedere, dove traveranno i nostri volontari ad accoglierli e poi sulla base delle necessità cerchiamo di orientare ai servizi del territorio o ai servizi interni di Croce Rossa. L'ASL Roma 4 ha dato il via alla prima tranche delle assunzioni dedicate alle categorie protette per l'anno 2023, inserendo in organico le prime 20 nuove risorse che andranno a ricoprire le mansioni di coadiutore amministrativo e operatore tecnico. L'azienda sanitaria locale, sensibile alle diverse necessità dei lavoratori per garantire un'inclusione sia logistica che sociale di questi neoassunti, ha deciso di avvalersi delle competenze del tavolo tecnico per la cultura dell'agibilità presieduto dalla dottoressa Elena De Paulis. Al fine di rendere stabile l'attività, l'azienda sta procedendo anche alla nomina di un disability manager, ossia colui che si occupa di predisporre progetti e migliorare le condizioni di lavoro. Una figura professionale che ha lo scopo di garantire un'efficace integrazione delle persone con disabilità all'interno degli ambienti di lavoro. Si preannuncia una giornata difficile sul fronte idrico domani per le zone a monte di Civitavecchia. Aceato 2 informa che per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sarà sospeso il flusso idrico dalle 7 alle 23. Si potrebbero quindi verificare mancanze d'acqua e o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade. Via dell'Orto di Santa Maria, Via Falda, Via dei Rocchi, Via di San Liborio, Via Guastatori del Genio, Via dei Ligustri, Via Nuova di San Liborio, Via Brancato, Via Navone, Strada delle Boccelle, Via Monsignor Mandolini e Via del Casaletto Rosso. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe. Per limitare i disagi dei cittadini è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti. Via dell'Orto di Santa Maria, Angolo Via Antica di San Liborio, Via Guastatori del Genio, Angolo Leosposito, Via Casaletto Rosso, Angolo Via dei Frassini, Strada delle Boccelle, Angolo Via Mercuri. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800-130-335. Arrivano altre segnalazioni per quanto riguarda la cosiddetta truffa del pacco. Un nostro telespettatore e lettore ha infatti informato che anche sua nonna stava per cadere nel tranello orchestrato dai malviventi. La modalità è sempre la stessa, con il fantomatico nipote che l'avrebbe chiamata dicendole di stare male. Ha poi finto una telefonata ad un numero privato per far arrivare un pacco a casa. Dopodiché la signora in questione doveva dare 5.800 euro al corriere che si sarebbe presentato per riscattare l'oggetto che serviva al nipote. Il finto nipote ha aggiunto che i soldi si trovavano vicino all'oro che la signora aveva in casa. Per fortuna la nonna ha capito subito che era una truffa e ha attaccato il telefono. Si tratta dell'ennesimo episodio che invita tutti a stare molto attenti. Mattinata di divertimento nel segno dell'inclusività al Parco Iuri Spigarelli di San Gordiano dove si è tenuto l'evento Special Day organizzato da Special Olympics. Obiettivo dell'iniziativa che all'interno di un corposo progetto è quello di favorire la pratica sportiva per tutti. presenti ben 15 classi di varie scuole come quella dei bambini di Beslan e di Piazzale della Gioventù di Santa Marinella oltre ai ragazzi dell'Associazione Il Timone che si sono esibiti nell'inno di Mameli con la lingua dei segni degli studenti che partecipano al progetto scuola-lavoro con l'Istituto Marconi. Tutto questo sotto l'egida della coordinatrice locale del CONI, Stefania Di Iorio e con il sostegno della Fondazione CariCib. Le interviste. Carpella Saracco, giornata speciale qui a Parco Spigarelli di San Gordiano con Special Day, uno dei ragazzi di Special Olympics e anche delle scuole. È vero, oggi Special Olympics è una giornata speciale, una giornata in cui vediamo i bambini che vanno dalla scuola materna fino alle scuole elementari e qualcuno anche più grande. L'importanza di questo progetto, a mio parere, sta nel fatto che nulla più dello sport può integrare e in questo momento i ragazzi sono tutti uguali e partecipano insieme a queste belle attività. Quindi la Fondazione è vicina e continuerà a stare con questo progetto, anzi spero vivamente che questo possa essere un progetto che accomuna un territorio perché non lo svolgiamo solo a Civitavecchia, anche negli altri paesi che fanno parte della Fondazione. Ci auguriamo con Stefania Di Iorio, che si interessa a lei del progetto, di poter fare una cosa molto più grande. Special Olympics è un'organizzazione internazionale che abbiamo portato a Civitavecchia durante il Covid e voi direte perché durante il Covid? Sì, perché durante il Covid eravamo tutti un po' chiusi nelle nostre abitazioni, avevamo necessità di portare dei progetti importanti e da qui è nata l'idea insieme ad un gruppo di lavoro di portare sul territorio i progetti Special Olympics. La Fondazione ha accolto in pieno questo progetto, il Comune di Civitavecchia, abbiamo fatto anche altre attività in pieno accordo con la divulgazione di questo progetto, tanto che la prima scuola dell'infanzia ad aver aderito a questo progetto è proprio la scuola dell'infanzia comunale, quindi diciamo che siamo partiti mettendo delle basi ben solide. Abbiamo qui presenti 15 classi, ci sono le classi dell'infanzia della scuola Piazzale della Gioventù di Santa Marinella e appunto le classi dell'infanzia della scuola Asilo di Beslan, l'asilo comunale. E in più, proprio per un progetto di continuità, e questa cosa è quello che vorremmo fare, cioè iniziare dall'infanzia che è la base, l'inizio della scuola, quindi raccontare che inclusione si fa a scuola, ma come d'altronde fanno le insegnanti, ma con progetti ben strutturati, come quelli appunto che propongono lo sport, insieme ragazzi con disabilità e ragazzi senza disabilità, tant'è che oggi voi non noterete che in mezzo a questi bimbi ci sono dei bambini che hanno una diversa abilità. Il Ministero della Cultura riconosce l'errore ma non lo corregge. Lo sostiene il giornalista civitaverchiese Flavio Martino, che negli ultimi tempi ha cercato di chiarire, peraltro riuscendoci, che le terme di Traiano vengono erroneamente chiamate anche terme taurine, denominazione che invece è stata sempre riconosciuta alla Piconcella. Secondo Martino, per migliorare la comunicazione e favorire la conoscenza, sarebbe quantomeno opportuno, quando si parla delle terme di Traiano, aggiungere erroneamente dette terme taurine. Peraltro, secondo il giornalista, l'errore storico sulle terme ha avuto origine perché, con ogni probabilità e sbagliando, è stata presa in considerazione l'acqua che ovviamente in quel bacino è la stessa della Ficoncella o terme taurine. Prima della Seconda Guerra Mondiale, anche l'Hotel delle Terme sul Lungomare usava la stessa acqua. Non si chiamava Hotel delle Terme della Ficoncella o terme taurine o di Traiano, secondo la logica confusionaria dell'indicazione terme taurine o di Traiano. Passiamo ora a una segnalazione che praticamente ci arriva da tutta Civitavecchia, che riguarda la presenza di foltissime erbacce a causa del mancato sfalcio dell'erba. Una nostra lettrice e telespettatrice ha compiuto un vero e proprio tour in varie zone della città, come si vede dalle foto che ci sono state inviate. Come già documentato in altri articoli dei giorni scorsi, gran parte di Civitavecchia deve fare i conti con questa situazione che si verifica soprattutto sui marciapiedi e nelle zone attigue alle abitazioni. La cittadina chiede a CSP di intervenire immediatamente per risolvere quello che sta diventando sempre più un problema. Come di consueto, giriamo la segnalazione agli organi di competenza. E con questo termina la prima parte del nostro telegiornale, ma rimanete con noi perché dopo il break apriamo la pagina sportiva. E veniamo quindi alle notizie sportive. Parte il toto allenatore al Civitavecchia dopo il divorzio con Paolo Caputo. In Lizza ci sono quattro tecnici, Stefano Manelli, Raffaele Scudieri e Alessandro Boccolini, mentre più defilato rimane Daniele Fracassa. Con ogni probabilità sarà uno di questi a sedere sulla panchina che fino a poche settimane fa è stata di Caputo. Per i dettagli sentiamo il servizio. Sono tre gli allenatori in Lizza per succedere a Paolo Caputo come nuovo allenatore del Civitavecchia. Il presidente Patrizio Presutti e il direttore sportivo Daniel Daponte sono al lavoro per fare la scelta giusta e per evitare quanto successo nella stagione appena conclusa quando Alessio Bifini non si è dimostrato all'altezza delle aspettative. Inizia quindi il toto allenatori che si spera sarà breve e porterà presto alla scelta del nuovo tecnico. In ballo ci sono Stefano Manelli, Raffaele Scudieri e Alessandro Boccolini. Tre tecnici che nelle ultime stagioni hanno fatto bene e che potrebbero far fare il tanto agognato salto di qualità ad una Rosa che ha sempre lottato per il vertice senza però riuscire ad arrivare nei primi due posti della classifica. Manelli è il tecnico che ha fatto grande la V3 Maccarese che ha allenato per cinque anni raggiungendo l'apice nella passata stagione quando perse la finale playoff per andare in Serie D contro il Livorno e ad oggi sembra lui il maggiore indiziato come successore di Caputo. Il Civitavecchia sta però pensando anche a Scudieri allenatore di grande esperienza reduce dalla non esaltante stagione con l'Unipo Mezzia ma che in carriera ha fatto cose importanti come la promozione in D con l'atletico SFF. Infine in Lizza c'è anche Boccolini nome che in città conoscono molto bene perché tra il 2011 e il 2013 è stato per due volte portiere della squadra nerazzurra con ottimi risultati. Boccolini da pochi anni è diventato allenatore e si è subito imposto all'attenzione generale prima a Rieti e poi a Nuova Florida in Serie D riuscendo a raggiungere l'obiettivo della salvezza nonostante delle situazioni societarie difficili. Più defilato c'è un quarto nome quello di Daniele Fracassa che dopo aver concluso la sua avventura al Tolfa ha voglia di affrontare la sfida con una compagine di eccellenza. Il suo nome era rimbalzato anche nella passata stagione prima che il Civita Vecchia virasse sub i fini e chissà che questo non sia l'anno buono per lui per coronare il sogno di allenare la squadra della sua città. Un tris di nomi più un quarto al momento in ritardo di qualche decimo di secondo chi riuscirà a vincere la gara e a giaggiudicarsi la panchina tanto ambita del Civita Vecchia? Gli snipers Tecno Alto conoscono la loro avversaria nella finale playoff per la promozione in Serie A i nirazzurri se la dovranno vedere con Fox Legnaro. Infatti la loro avversaria il Forlì ha dovuto rinunciare la partecipazione a causa dell'alluvione che ha costretto il club romagnolo a dover sospendere tutte le proprie attività. Quindi il quintetto di Martina Gavazzi se la dovrà vedere contro la squadra che ha vinto la regular season ma che nei tempi regolamentari finora ha perso solo con l'epore e compagne. Gara 1 sabato alle 20 al Palamercuri poi la Serie si sposterà in provincia di Padova con gara 2 sabato 3 giugno alle 19 e l'eventuale Bella il giorno successivo alle 15. Il Palagalli continua a colorarsi d'azzurro. Dopo il collegiale dello scorso agosto la nazionale under 20 tornerà ad allenarsi al Palagalli per delle sessioni di preparazione agli europei che si daranno in Romania dal 10 al 17 giugno. Gli allenamenti allo Stadio del Nuoto si svolgeranno dal 29 al 31 maggio. E nell'elenco dei convocati del CT Roberto Brancaccio è stato riconfermato Matteo Maizzani dell'ANC Civitavecchia ancora chiamato in azzurro in una squadra che vanta tanti giocatori protagonisti del campionato di Serie A1. Nonostante le condizioni meteo non proprio confortanti soprattutto di sabato è andato in scena regolarmente Civitavecchia Revolution Sport Weekend manifestazione di triathlon che ha portato in città centinaia di atleti. Nella gara senior hanno vinto Leonardo Carletti tra gli uomini e Anita Gerlardoni tra le donne mentre la staffetta è andata alla squadra lenti ma potenti. Per la nostra città sono arrivati due secondi posti nella gara di atletica sia nel maschile con Andrea Zarelli della Tirreno Atletica che nel femminile con Lucrezia Adamo della Milardi di Rieti. A vincere in questo caso sono stati Francesco Dejas e Alice Capone. Ennesimo weekend di soddisfazioni per Cecilia Pampinell. La giovanissima puddlesurfer locale ha conquistato ottimi risultati a Villach in Austria dove si è svolta una gara internazionale con circa 300 atleti provenienti da tutto il mondo. Pampinella ha vinto in entrambi i giorni il sabato nella long distance di 12 chilometri e la domenica nella technical race dopo una lunga fase di eliminatoria. A soli 17 anni mi sono confrontata con atlete più grandi di me di Chiara Pampinella riuscendo ad ottenere due primi posti. Prossimo appuntamento il 2 giugno in Sardegna per una tappa valida per il campionato italiano poi il 16 e il 17 di giugno ad Anguillare il fine settimana successivo in Germania per la tappa internazionale dell'Eurotour. E con questo termina questa edizione del TRC Giornale prima di salutarvi vi ricordo di seguirci anche sui nostri profili social Facebook, Youtube, Instagram oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it Per quanto mi riguarda è tutto io vi ringrazio per la gentile attenzione auguro a tutti un buon proseguimento di serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti